Presente Di Francesco, la terna arbitrale è arrivata, Cupello oggi entra un po' nella storia del calcio abruzzese, come state vivendo questa vigilia? Sicuramente un po' emozionati, credo quello che dicono le statistiche sia un evento alquanto unico, avere una terna arbitrale tutta femminile nella categoria eccellenza abruzzese. E' un motivo di orgoglio perché sicuramente chi ha scelto Cupello come ambiente ospitante per questo evento, come dicevo prima, unico ci riempie di orgoglio e fa sì che questo rafforza un po' quella che è la nostra concezione del calcio, un calcio basato sulle regole, sul terreno e sul rispetto dell'avversario. La squadra l'avete preparata in modo diverso oppure come tutte le settimane? No, guarda, i ragazzi sono concentrati come tutte le partite, anche se ci sarà come diciamo prima una terna tutta rosa, i ragazzi sanno l'importanza di questa partita e la partita l'abbiamo preparata come tutte le altre.